Ci sarà pure Dimensione Cristiana, il nuovo simbolo che si rifà alla vecchia di Cine, la corsa alle comunali a Bari. Qui la presentazione dei vertici regionali e comunali del partito guidato da Franco Albore, presente già in 18 regioni e diverse province italiane. Per le comunali del capoluogo Dimensione Cristiana non intende schierarsi, per ora resterà al centro dello schieramento politico in attesa delle mosse dei due schieramenti, delle candidature ufficiali e dei programmi per la città. Di certo, sottolineano i nuovi vertici del partito, i voti di Dimensione Cristiana saranno decisivi per la vittoria finale. Vogliamo il confronto diretto con tutti i candidati sindaco e li vogliamo incontrare come Dimensione Cristiana, sia di destra, di centro, di sinistra, in qualsiasi momento, per capire dove puoi successivamente collocarci. Qual è il programma per la città di Bari? Il programma della città di Bari, grande sviluppo, grande voglia di iniziative, accento su tutte le problematiche, in particolar modo della sicurezza, in particolar modo della pulizia della città, che è più grande difficoltà di questo momento, soprattutto a livello cittadino, e l'attenzione è posta alle esigenze dei cittadini baresi, soprattutto nell'ambito dei servizi sociali e del lavoro. Grazie a tutti.